Beethoven Café Taranto, bar, sala da tè, pub, fast food, eventi, ampia struttura interna ed esterna, il luogo ideale per colazione, pausa pranzo con primi e secondi a scelta e ancora taglieri di salumi, panini, tramezzini, piadine, pucce, toast, stuzzicheria, cocktail ed aperitivi, torte, dolci, semi freddi, tanti prodotti tipici siciliani, in particolare cannoli e paste di mandorla. Organizziamo serate musicali, eventi, ricorrenze. Beethoven Café, qualità ed eleganza. Vi aspettiamo in via La Caita 1 Taranto, per info e prenotazioni 099 779 6563.